No pasarán è il messaggio che sembra lanciare agli euroscettici il nuovo governo spagnolo, sfoggiando figure come l'ex presidente del Parlamento europeo Giuseppe Borreia agli esteri o Nadia Calvigno, direttrice generale del bilancio alla Commissione europea finita al Ministero dell'Economia. Nadia Calvigno a Bruxelles ha ricoperto diverse posizioni chiave di alto livello e sa bene come funziona la macchina, conosce bene il bilancio europeo, è lei che ha redato il progetto di bilancio della Commissione e questo è chiaramente un vantaggio per il nuovo governo, il fatto di poter contare su qualcuno che sa davvero come funziona Bruxelles e può aiutare la Spagna a trarne vantaggio. Una squadra di governo che vista la tempistica appare come una risposta e una sfida all'euroscetticismo finito negli stessi giorni al potere in Italia. In passato l'Italia era più ricca, più prospera, più europeista ed è fondamentalmente crollata nelle classifiche in termini di prosperità, crescita e così via. Vediamo una biforcazione qui fra la Spagna e l'Italia, in cui la Spagna sta iniziando ad essere in vantaggio, naturalmente grazie anche alle sue politiche molto europeiste, al suo successo sul fronte delle politiche di crescita che l'Italia ha perso per strada. Nadia Calvigno tornerà a respirare aria europea già fra due settimane alla riunione dei ministri delle Finanze a Lussemburgo.